ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube appena finito di recensire il tester per liquido dei freni della parkside e voglio recensirvi anche quest'altro modello che possiedo da un pochettino di tempo ho preparato dei bicchierini con delle percentuali di acqua di sciolta all'interno del liquido dei freni e con questo adesso lo misureremo a cosa serve come ho detto anche nell'altro video nell'altro video serve a verificare quanta acqua ha assorbito il liquido dei freni essendo il coroscopico quindi quale quanto è il rischio che i freni non rispondano alla nostra pressione sul pedale e quindi quanto sia poco sicura la nostra frenata soprattutto quando i freni quando il liquido dei freni sul riscalda perché frenando consecutivamente con la pressione liquido dei freni sul riscalda se non c'è acqua diluita allora il liquido del freno rimane incomprimibile quindi vado a girare direttamente sui pistoncini nel caso in cui invece ci si acqua viene cambiata la formula del liquido si producono anche dei gas e l'acqua anche se incomprimibile ciò che si forma all'interno di tutto l'impianto frenante non saranno più solo liquidi quindi sarà tutto comprimibile e la pressione che daremo al pedale anziché andare a giro e sul peso sul pistoncino e quindi stringere il disco semplicemente comprimerà prima l'aria e poi agirà di conseguenza la nostra frenata non sarà più reattiva e sicura con questo tipo di dispositivo abbiamo la possibilità di capire se è il caso o meno di sostituire il liquido dei freni e quindi anche in autonomia renderci conto della salute del nostro impianto frenante e di garantirci la sicurezza durante la guida quindi vi lascerò il link di questo prodotto su amazon nei vari siti in modo da farvi risparmiare più possibile ma adesso mettiamolo sul bancone osserviamolo rapidamente e soprattutto facciamo il test per vedere come si comporta iniziamo e allora ragazzi siamo pronti per iniziare volevo farvi vedere anche la confezione di questo dispositivo king bollen vi lascerò comunque diversi link in modo da farvi risparmiare il più possibile allora anche questo come l'altro modello della parkside ci dà la possibilità di misurare le percentuali fino al 4 per cento adesso faremo la prova con questi bicchierini io ho diluito il liquido dei freni mettendo la percentuale di acqua quindi dell'1234 per cento poi dal 5 in su il primo era senza acqua la dimostrazione del fatto che i liquidi dei freni sono igroscopici quindi assorbono l'acqua sia dall'ambiente ma riescono ad assorbirla anche all'interno dell'impianto frenante la dimostrazione di questo in circa un'ora che questi bicchieri sono rimasti anche se coperti non in modo ermetico hanno assorbito comunque dell'acqua quindi il liquido dei freni è molto igroscopico adesso accendiamo questo dispositivo che nella parte frontale a questi due sensori il cappuccio serve a proteggerli e che va messa la batteria da questa parte si apre va inserita solo una mini stilo tripla questa è una clip e questo è il tastino di accensione questo praticamente si spegne quasi subito quindi alla pressione si accendono i led momentaneamente indica lo zero per cento come percentuale di acqua presente perché non stiamo facendo alcun tipo di test e ci indica anche il livello della batteria nel caso in cui sia scarica ce lo segnerà cambiando colore con lo zero per cento sarà tutto ok quindi un liquido normale anche con l'1 e il 2 per cento risulta ok dal 3 per cento in poi invece c'è un segnale di avviso allora facciamo la prova immergendolo nel privato già si è spento mettiamolo nel primo bicchierino nel quale c'è una percentuale dell'1 per cento ma per fare questo voglio cambiare inquadratura e allora i numeri romani stanno ad indicare la sequenza con cui devo fare la misurazione nel primo c'è l'un per cento di acqua ma mi indicherà due per cento perché assorbito come vedete si accendono i due led oscilla fra due e tre ok quindi si accendono i due led il primo è quello che mi indica lo zero per cento il secondo invece indica il due per cento di liquido di acqua all'interno del liquido adesso lo pulisco e andiamo al successivo dovrebbe indicarmi il tre per cento di presenza di acqua lo spengo e lo riaccendo per essere sicuri in questo caso come vedete si indica il tre per cento perché hanno assorbito l'un per cento di acqua in più in questo tempo che sono rimasti ad aspettarmi quindi lo spengo lo riaccendo dal terzo mi indicherà il 4 per cento infatti 4 per cento di presenza di acqua quindi esattamente come quello della parkside danno la stessa risposta ovviamente andando avanti mi indicherà una misura ovviamente esagerata quindi superiore al quattro per cento nel primo bicchierino nel quale non ho inserito acqua quindi dovrebbe darmi il zero per cento avendo assorbito una quantità di acqua forse di poco superiore all'uno per cento mi indica il due per cento come presenza di acqua perché sicuramente va approssimando si avvicina al due per cento comunque supera uno e mezzo per cento e quindi mi indica il 2 come vedete ha assorbito comunque dell'acqua anche se non era presente quindi ragazzi come ho detto anche per l'altro prodotto come vedete funzionano bene hanno una lettura tramite questi led che indicano il livello di percentuale presente all'interno dei liquidi di freni permettendoci di avere una frenata efficace e efficiente soprattutto che ci garantisca di essere sicuri che quando fermiamo i freni rispondono come vogliamo noi e non abbiano quella spugnosità che danno anche quel senso di insicurezza io vi lascerò il link spero che questo video vi sia piaciuto voglio ricordarvi però anche di fare attenzione non toccare mai il liquido dei freni se non utilizzate i guanti e soprattutto fare attenzione nel caso in cui vi sporchiate le mani liquidi e freni di non toccare mai il viso gli occhi la bocca eccetera e lo stesso liquido dei freni se va a contatto con carrozzeria superfici delicate potrebbe anche sverniciarlo quindi ragazzi che stavo dicendo che io ringrazio di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto